Ultimo infrasettimanale in Serie D, il Girone F ha già decretato ufficialmente la sua regina, la Re Canatese, dopo il successo col Matese di domenica, raggiunge la Lega Pro. E adesso spazia le questioni relative alla qualificazione play-off e alla volata salvezza passando dai play-out. La sfida più affascinante e che riguarda le due abruzzesi è quella del Mariani Pavone di Pineto, dove i padroni di casa di Amaolo, Corsari, Sabato e Notaresco attendono la visita del Chieti. Alessandro Lucarelli perde per squalifica il difensore Bassini, ma dovrebbe ritrovare Mele in mezzo al campo. Davanti Fabrizi, due gol anche con l'Aurora Alto Casertano, domenica non si tocca. Semmai ci sarà da scegliere uno tra Orlando e Deluasni per affiancarlo. Il Pineto dal canto suo dovrebbe confermare quasi per intero l'undici di partenza di sabato. Della Quercia a destra nei tre dietro con Pepe e Mesisca sul centro-sinistra. Domizzi in mezzo al campo con Galeano per Caprioli e la coppia Barlafante-Romano davanti. Chieti ha due lunghezze dalla zona playoff, mentre i rivali odierni sono appaiati con la San Benedettese all'ultimo posto utile per la post-season. Anche per questo la sfida si preannuncia ricca di agonismo, oltre che di fascino. Trasferta romana per un'altra pretendente ad un posto per gli spareggi come Lavastese, che fa visita al Trastevere secondo della classe, non avendo più possibilità di vincere il Girone F e con una qualificazione pressoché matematica ai playoff a 270 minuti dalla fine del campionato, gli Capitolini hanno poco da chiedere all'impegno odierno, che invece vedrà gli aragonesi desiderosi di dimenticare lo scivolone interno con un'altra laziale, il Fiuggi, di tre giorni fa. Bastese senza Agnello, e sarà una mancanza pesante in mezzo al campo per Dadderio, ma la possibilità di poter sperare ancora in un posizionamento utile alla fase 2 può essere lo stimolo giusto per regolare una squadra che in casa ha perso solo due volte contro Recanatese e Pineto. Scontri delicatissimi invece per Notaresco e Castelnuovo e Rosoblu di Epifani, dopo quattro sconfitte consecutive vanno a Montegiorgio contro una formazione che deve tirarsi assolutamente fuori dall'otto play-out. La distanza di tre punti tra le due squadre fa capire quanto sia delicato l'impegno, assolutamente da non fallire. Anche un punto terrebbe lontano lo spauracchio bassa classifica, impronosticabile in avvio di torneo. Le assenze, oltre che l'avversario invece, saranno gli ostacoli principali del Castelnuovo a San Benedetto contro il Porto d'Ascoli. Alle squalifiche di Alfieri e Sparvoli infatti si aggiungono i forfè per infortunio di Casimirri e Terrenzio. Difesa da inventare, anche se in porta torna Natale e davanti torna Emili. Un buon risultato darebbe la spinta definitiva ai Neroverdi in un'annata comunque travagliata. Infine il Nereto che ospita il vasto Girardi. Poco da chiedere ancora a questo campionato per i vibratiani già retrocessi, ma che fermando i molisani potrebbero fare un favore indiretto proprio al Castelnuovo nella corsa per evitare i play-out.